Mi fa piacere, la ringrazio, ringrazio tutti. Cosa ancora dire? Beh, potrebbe dirci che cosa ha rappresentato questo mezzo secolo di cinema per lei. Una lunga storia d'amore. Nient'altro. E che altro? Degli Oscar non arrivati, diciamo così, lei fu la prima candidata donna regista nel 77, poi però l'Oscar non arrivò. Lei è dispiaciuto? No, non ci ho mai pensato, onestamente. Il suo film della carriera, quello a cui lei tiene di più, almeno qualcosa di questo ce lo può dire? Ma non so, forse Pasqualino, forse, non ci ho pensato. La trovo molto, come dire, molto tranquilla e distaccata. È così, difatti. Normalmente non c'è niente di speciale, niente di particolare da dire. Fa piacere e appunto è basta. Andrà naturalmente alla cerimonia? Non lo so, vogliamo. Ma perché non considera importante l'Oscar? No, per carità, bellissimo, mangio. Sono molto grata.